a me sembra il contenuto per youtube quindi gradirei trovare qualcosa gradirei un blu un blu niente blu sali non ti fermare sali sali golezza 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 oh è buono forza Argentina Francia bono dai buono buono come and ball utile oh su Arnz 84 buttalo via ah si no forza 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 su 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 chi c'è stato buono questo mi sa che è forte eh no va ma guardate cazzo eh cazzo eh cazzo ah direi un giocatore live è solo per due dammelo walk out forza perchè pare che è work out perchè perchè oh per la serie A è buono buono per la serie A perfetto perfetto questo è il pacco di cazzo ok vedi che il pacco di cazzo funziona e vabbè però vabbè buttamolo via però pacco di culo ah hai visto eccolo vedi che il pacco di culo funziona non è no dai ma sei un stronzo però pacco di cazzo un pacco di culo tu portieri allora io devo aprire i miei premi su web app mi hanno bannato dal PSN per una settimana non so perchè speriamo che sta web app porta fortuna primo prime optimus prime bel pacco comment ball subito porco dio vabbè spinazzola non male dai viene spinazzola non male oh ma cazzo ma c'era un'altra volta doppione rubini c'è due io non ho i miei fido di rubi oh rudiger simone questo è un bel pacco mi piace potrei vende van dyke e fammi rudiger così potrei fammi rudiger e coso e vinisius a posto di jota potrei mezzo fare sta cosa potrei mezzo fare nasino alza le mani insieme di postazione verso il suo grandissimo gioco bravo bravo alza di alza di su attt attt add dembélé questo è dembélé gameplay praticamente sei contento che te l'ho trovato sei contento sei contento cazzo nasino nasino ok walk out dai 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 qualcosa è bello vabbè no no ma va sputati su una mano e ti darò trampaccia forza 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 uno buono forza un walk out francia sali 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 in alto dembélé in segreto adesso dembélé della serata vabbè ragazzi non so non mi hanno niente idea di cosa possa droppare io però credo nel cuore delle carte credo nel cuore degli if e premio x con il nasino oh buttalo via buttalo via oh buono forza uno buono pagherà ferie fanculo bravo dai forza forza back to back back to back vabbè back to back walk out punti di vai forza next oh buono if walk out forza c'è sta non lo so oh buono oh questo è forte oh questo è buono raga non scherziamo beh oh io ho detto a toni gli escuro sempre sempre raga sempre madonna giocatore oro premium 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 oh walk out forza dovrei che se sbaglia tra colibali ma ne no mendi forza uno buono forza oh bello argentina brasile dc bremer vabbè comunque sia lo accettiamo aglio gli passa i gironi uffa dai dai nasino 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 att tt dc oh vabbè onesto onesto ah gioco gioco a rain piccolo dai qualcosa di carino adesso dai faccio un po' vedi walk out dai germania dc rudiger ottimo 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 pure scambiabile ottimo basta che ci clicchi adesso oh back to back walk out levandoski vabbè scesi di me lo collo dai sotto lingua walk out tno possa att non mi ha mai dato levandoski ma è sempre uscito coglione basta sempre fammi qualcuno vabbè vabbè sto quanta i giovani tro mega back to back malez ok non so quanto sta non starà tantissimo però comunque sia butto comunque in back to back ho sordi a dich non so quanto non so quanto ho sordi vabbè l'anima torta